In tanti hanno voluto salutare per l'ultima volta Flavia di Buonaventura, la ragazza rossetana 22enne che ha perso la vita dopo un investimento mentre era in bicicletta con i suoi amici. Tanta commozione e tanti applausi nei momenti in cui le sue amiche, ma soprattutto i suoi genitori, hanno ricordato la figura della studentessa. Presenti le istituzioni, a partire dal primo cittadino Mario Nunes, di tutti i consiglieri comunali, del vice sindaco dell'Orletta della vicina Pineto e del comandante Tarantino della locale stazione dei Carabinieri. Le esequie, ufficiate da Don Pietro, sono state eseguite in religioso silenzio, tra le lacrime di una cittadina in lutto dopo le giornate passate in preghiera, prima della tragica notizia. Flavia si faceva voler bene da tutti e il suo bene lo riversava sugli altri, lo stesso bene che ha donato prima dell'ultimo saluto, da ragazza matura e intelligente. Ora altre persone potranno godere della sua bontà, altre persone potranno continuare a vivere. Questo è il disegno più bello che Flavia ha potuto realizzare nel corso della sua vita.